benvenuti a tutti a questo breve tutorial su come utilizzare zoom per partecipare alle nostre lezioni online questo è il sito di zoom zoom.us e qui potrete scaricare il programma zoom è una cosa che vi consigliamo di fare non è necessario si può seguire la lezione anche dal browser ma è indicato perché potete accedere a più funzionalità potete dalla pagina di zoom anche naturalmente questo download zoom client quindi da qua scaricare il programma e se volete anche iscrivervi e quello che succederà però sarà che riceverete un email come questa vedete veronica terragno mi ha invitato mi ha inviato scusatemi un email in questa email troverò il link che dovrò cliccare per accedere alla lezione qui sotto c'è anche l'id della lezione questo numero qua questo numero si può anche semplicemente inserire nel programma zoom che avete scaricato fate semplicemente join a meeting e inserite qua il numero che vi ho dato precedentemente oppure più semplice quindi basterà inserire questo codice qua e fare join oppure più semplice potete semplicemente cliccare sul sul link che vi viene dato si aprirà un'altra finestra questo in questo caso vi chiederà se accedere al zoom via browser oppure avviare l'applicazione quindi farlo con il nostro zoom il nostro programma che abbiamo scaricato ed ecco qua che ci connettiamo e eccoci qua ecco la nostra insegnante veronica siamo arrivati all'interno della lezione siamo nella lezione di zoom con il nostro insegnante e avete visto è facile basta cliccare il link vi faccio vedere prima partiamo dalle cose un po meno importanti qua in alto e come vedete zoom cliccando questo andate in schermo intero schiacciando questo invece cambia la vostra visione di zoom ora vedete siamo solo in due ma se fossimo in dieci ci sarebbero dieci finestre quindi vedo tutti è la gallery view se invece clicco speaker view vedo solo chi parla in questo caso il mio insegnante torna gallery view e vedo tutti tutti tutti